De Luca sui problemi della sanità invoca Padre Pio. A che santo si rivolgerà per tutto il resto? Così l'europarlamentare Lucia Vuolo di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, sulle ultime dichiarazioni del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, circa la carenza di personale negli ospedali, l'emergenza caldo e la conseguente pressione sui pronto soccorso. Le liste di attesa, aggiunge, sono diventate un dramma per gli ammalati. Gli screening procedono con estrema lentezza, laddove vi è la necessità di avere diagnosi precoci e salvare vite umane. Il carico di lavoro per il personale ospedaliero è drammatico, sottolinea. Dalla Campania è esponenziale la migrazione sanitaria verso ospedali del nord ed è sempre più a rischio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Negli ultimi anni di mandato De Luca ha convissuto con un duro piano di rientro, riflette, non considerando altri punti di soccorso smantellati. Città come Mercato San Severino, Agropoli, Scafati, Cava dei Tirreni sono state mortificate. Ecco il cortocircuito. Chi ha il dovere di definire gli obiettivi si affida al santo, lo stesso a cui si affida il paziente. Quest'ultimo, continua Lucia Vuolo, ha il diritto di essere curato. Il primo ha il dovere di agire, non certamente di continuare sulla scia di un'ironia ormai fuori luogo. I concorsi vanno deserti? Male, anzi malissimo. E mi domando, come farà il presidente a riempire l'ospedale in costruzione a Salerno? Con queste parole conclude Lucia Vuolo. A quale santo ricorrerà?